Acceso in Viale delle Fosse, abbassano il nuovo impianto di illuminazione a LED per la valorizzazione delle mura della città. Stiamo parlando di un impianto di luce a LED che consuma anche molto poco, circa 440 W quando è tutto acceso. Sono dimerabili, abbiamo due modalità di accensione, una al 75% nelle prime fasce orarie e di notte la deduciamo al 25% per dare risalto anche forse in modo migliore a quella che è la morfologia della mura, cioè i sassi e quant'altro, si può apprezzare. L'opera di illuminazione di questo tratto di cinta muraria eseguita in collaborazione con la soprintendenza si inserisce in un più ampio progetto di sistemazione del viale cittadino. Innanzitutto la sistemazione dello scolo delle acque che crea sempre notevoli problemi, progetto già approvato e di cui partiranno i lavori a giugno. Poi invece è previsto ed è in progettazione esecutiva in questo momento, già approvato dalla soprintendenza, lo stralcio di sistemazione da via Jacopo da Ponte a Piazzale Trento con una sistemazione come il lato a nord, cioè si cambiano i marciapiedi in pietra, si cambiano i profili e si fanno la parte di illuminazione delle mura che arrivano fino a Piazzale Trento.